grazie francesco e tutti quanti valentina francesco per l'invito e per la bella introduzione lasciatemi aggiungere prima di iniziare il talk che per me è un grande onore dopo tanti anni vedere che dopo tanti anni che all'estero avevo l'impressione che non lo so tante persone andavano fuori e non ritornavano facilmente vedo con tanto entusiasmo che negli ultimi anni almeno nella nostra comunità probabilista tanti ragazzi si stanno rientrando in gambissima e infatti negli ultimi anni che stavo benissimo a later mi hanno fatto venire voglia di tornare e per me è un onore un piacere ritornare ritrovare un'italia forse anche meglio per certi aspetti di quello la comunità probabilista di quello che percepivo un po dall'estero vedo che ci sono tante persone in gamba eh Matteo è un esempio di questi più giovani che hanno fatto avanti indietro visto che l'hai menzionato fatemi anche dire che è stato il primo studente che si è laureato con me in Olanda è stato un gran piacere ricordo benissimo eh in cui parlavamo di Garbatella nella tesi di laurea di Matteo e io quando si ci guardavano diciamo di che cosa stanno parlando eh va bene detto questo appunto un grande piacere essere qui e oggi con Matteo eh abbiamo preparato un talk eh congiunto eh appunto ehm non riguarda solo me Matteo fatemi infatti dire che questo oggi parliamo io in particolare farò una visione introduttiva di una tematica d'aria e poi passerò la parola a Matteo dove racconterà un risultato specifico all'interno di questo contesto che descriverò che abbiamo ottenuto recentemente con Raja Tasra eh che è un collega di Leiden Federico Capannoli che è un dottorando che stiamo cosupervisionando io e Rajat e appunto con Matteo e oggi il focus principale sarà su questo progetto detto ciò intorno a quest'area che descriverò eh sono un po' di anni negli ultimi tre quattro anni stiamo abbiamo fatto altri lavori e stiamo finendo altri lavori e anche con altri collaboratori in particolare di che cosa vogliamo parlare? Di cose classicissime di catene di Markov incontri di random walk di passeggiate aleatorie e eh dinamiche di opinioni marcoviane eh infatti adesso inizierò il talk richiamandovi eh modello più classico più semplice il modello del votante il voter model sistema di particelle interagenti che è un modello classico per descrivere dinamiche di opinioni su grafi eh il titolo quindi ci sono tre parti passeggiati incontri tra passeggiate aleatorie dinamiche di opinione questi due eh temi sono molto legati come spiegherò e poi la terza cosa è su grafi random in verità nel mio talk in introduttivo eh descriverò le cose su grafi finiti deterministici e eventualmente anche aleatori infatti una delle cose che vorrei sottolineare in questo talk è che negli ultimi anni c'è una bello revival direi delle catene di Markov finite di tante cose che si fanno intorno alla probabilità che si facevano già da tanto tempo sulle catene finite perché finalmente abbiamo un framework matematico per descrivere eh reti irregolati e quindi il contesto della letteratura diciamo di la teoria dei grafi aleatori se volete proprio un un framework matematico che ci permette finalmente di analizzare cose che facevamo da anni noi probabilisti anche su geometrie finite discrete non regolari questo fa sì che ci sia in qualche modo un rebusso di di dello studio della teoria delle catene di Markov in contesti eh non più semplificati ideali simmetrici come ZD o il grafo completo eh e e e penso che i probabilisti in questa diciamo annate nel studiare modelli su reti eh possono dare contributi anche applicati a diverse discipline da network design a algoritmica e e cose applicate di varia natura bene allora eh voglio appunto inizierò a parlarvi del modello di voter del modello dei votanti su grafi finiti eh dopodiché passerò a a spiegare perché è collegato intimamente a come si incontrano delle passeggiate aleatorie sui grafi e poi nella parte finale incomincerò a eh diciamo descrivere un po' qualche risultato su grafi in particolare aleatori e poi darò la parola a Matteo eh dove ci racconterà questi risultati in un setting geometrico specifico di grafi orientati con struttura di gradi a scelta comunque passo dopo passo iniziamo allora e il modello di water su grafi finiti non è nient'altro che una catena di Markov allora contesto generico qui parlo di rete o grafo G eh finito eh N sarà sempre l'insieme il numero dei dei nodi nel grafo prendete il vostro grafo a piacere e assumerò nel talk sempre che il grafo è finito e connesso ora per semplicità dell'esposizione in questa prima parte eh tratterà solo casi in cui la rete non è diretta quindi non è orientata i i gli archi non sono orientati e e diciamo si può pensare che non non è pesato il grafo in questo contesto che descriverò ma tutto quello che dico è immediatamente estendibile a un contesto diretto eh e pesato eventualmente per semplicità adesso eh vi descrivo le cose in un grafo finito non pesato non orientato bene cos'è il processo di voter dato un grafo finito con N nodi connesso eh è semplicemente una catena di Markov che va a tempo continuo che indicherò con eta di T eh il suo spazio degli stati è zero uno alla alla insieme dei vertici del grafo eh che vuol dire questa cosa eh è un processo di Markov che può descrivere con un generatore infinitesimale che descrive le transizioni qui ho scritto la formula non dovete capirla eh immediatamente eh questa è la formalizzazione diciamo per esempio classica nel Ligget per chi è familiare con con questo tipo di letteratura eh per descrivere questa dinamica la cosa migliore forse è partire da un esempio che si capisce da da dal disegno che si capisce immediatamente allora si prende un grafo di partenza finito connesso con N nodi ehm si parte da una configurazione di zero uni assegnati a ciascun vertice quindi se volete zero uno può rappresentare due opinioni diversi o due colori diversi ciascun individuo quindi ha la sua opinione o il suo colore eh diciamo in questo contesto due colori eh quindi si parte da una configurazione di questo tipo e eh processo di voter quello che fa è fa evolvere questa configurazione nel seguente modo come è descritto nella frase qui sotto eh vale a dire che ciascun vertice del grafo ha un suo orologio esponenziale di tasso uno quando questo quando il primo di di questi orologi suona diciamo per esempio a questo vertice qua eh questo vertice è pronto a fare la sua prima transizione a cambiare la sua opinione eh in particolare diciamo se per esempio era blu ma indipendentemente da quello che era che fa quando suona il suo orologio sceglie uniformemente da uno dei suoi primi vicini uno dei suoi primi vicini per esempio questo e semplicemente adotta il colore del vicino scelto quindi ora è diventato rosso e questa è la descrizione della dinamica del processo di voter punto eh si prosegue così ci sono questi orologi esponenziali per per ogni vertice il primo che suona quel nodo si sveglia e dice ma è il momento forse di riconsiderare la mia opinione sceglie un vicino un primo vicino e prende la sua opinione quindi spero che sia chiara la dinamica è molto semplice in se per sé da descrivere e è ovviamente una dinamica che è stata proposta in un contesto di opinioni detto ciò eh fatemi anche menzionare che c'è una letteratura enorme su questa dinamica in un contesto del grafo completo eh per applicazioni biologiche perché ehm quello che infatti il processo di voter eh si chiama anche eh moran model a tempo continuo sul grafo completo e se lo consideriamo a a tempo discreto l'analogo di questa catena sul grafo completo è quello che si chiama Wright Fisher model è usato in eh population genetic in genetica di popolazione per vedere come evolvono diciamo i tratti degli alleli di alcuni geni pensate blu rosso può dire può voler dire in una popolazione eh un allele e per esempio il colore degli occhi porta diciamo il tratto che fa avvenire un colore due colori diversi ad esempio comunque quindi è un modello ampiamente studiato in diversi contesti sia in un contesto biologico e più in generale in un contesto di eh dinamica di opinioni eh su un grafo bene ora da un punto di vista matematico è semplicemente una catena di Markov su uno spazio finito eh è una catena irriducibile già che il grafo è connesso e osserviamo subito che se facciamo andare avanti l'evoluzione di queste opinioni su questa catena di Markov questa catena di Markov è abbastanza semplice da capire la sua struttura delle classi comunicanti per esempio e in particolare ha due soli eh stati assorbenti le configurazioni monocromatiche tutti repubblicani o tutti democratici eh e e dunque è una catena che ha due stati assorbenti è irriducibile quindi in tempo finito sappiamo dalla teoria di base delle catene di Markov con probabilità uno in tempo finito il sistema raggiungerà il consenso e questo è uno dei primi osservabili interessanti tau cons il consenso vuol dire il primo tempo in cui tutte le opinioni si sono cristallizzate in un'unica opinione tutti democratici o tutti repubblicani ad esempio ok quindi abbastanza semplice da capire che con questa dinamica in un grafo finito volume infinito è completamente diverso ma a volume finito si raggiunge in tempo finito eh il consenso ora la domanda essenziale è come raggiunge il consenso il sistema in grafi finiti vale a dire cosa si può dire di questo tempo eh come scala per esempio con la taglia del grafo come scala e come si comporta qual è la sua distribuzione in funzione della geometria reale che c'è nel grafo non è detto che si comporti in maniera simile eh se cambiamo la struttura sotto del grafo dell'interazione degli individui bene ora in questa seconda detto questo vorrei adesso discutere un po' una costruzione classicissima del water model e direi elegantissima eh che ci permette di legarla a come un random walk anzi diversi random walk viaggiano diverse passeggiate allenatori e viaggiano dentro una data rete vediamo questo fatto allora fatemi descrivere quella che si chiama per esempio nell'IGET ma in tanti altri contesti costruzione grafica del processo di voter è semplicemente una formulazione in termini di accoppiamento usando un sistema di poisson processi di poisson indipendenti questa è tutta la lea che utilizziamo per descrivere questa dinamica va bene questo è spiegato in questa figura ora per semplicità questa figura ho preso come grafo qui sotto a tempo zero vedete questa è una figura spazio temporale nello spazio qui sotto adesso ho preso come grafo un pezzo di z semplicemente ma quello che sto per dire si può fare su qualsiasi altro grafo è solo per semplicità della figura che considero un grafo diciamo banale unidimensionale e come funziona la cosa si considera il proprio grafo e praticamente si attacca a ogni edge del grafo si attaccano due paia di poisson processi di poisson indipendenti e a secondo se legge lo si vede orientato da una parte o dall'altra e processi di poisson di tasso uno in questo contesto e quello che vedete raffigurato in questo figura spazio temporale sono proprio diciamo per esempio le frecce che vanno in una direzione sono i gli arrivi di questo processo di del processo di poisson in uno degli edge e si fa questa procedura si attaccano questi processi di poisson per ciascun edge indipendentemente e questo campo di processi di poisson è tutta la lea necessaria e sufficiente per descrivere l'evoluzione del processo di voter del voter model infatti vediamo questa cosa perché è vera questa cosa perché una volta che usiamo che vediamo la realizzazione di queste campo di processi di poisson nel tempo associati agli edge beh possiamo leggere semplicemente mettendo la configurazione iniziale delle opinioni a tempo zero possiamo leggere seguendo le le l'evoluzione di questa realizzazione di dire di di frecce associate a questo campo di processi poisson come evolverà le opinioni dentro al sistema in particolare si può leggere per esempio la configurazione al tempo ti dato del mio processo di voter si può leggere a partire dalla configurazione iniziale seguendo indietro il cammino delle che 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 viene specificato dalla realizzazione delle seguendo le frecce dei processi di poisson vediamo un po' questa cosa per esempio se mi chiedo a questo tempo ti qui immagino vedete il cursore bene grazie a tempo ti per esempio a questo sito qui il sito 1 beh l'ultima volta che questa questo individuo ha cambiato la sua opinione è stato quando è suonato il suo orologio e ha scelto un primo vicino in questo caso per esempio l'individuo 1 ha preso l'ultima volta la sua opinione se andiamo indietro nel tempo da questo individuo qui e via dicendo questo individuo da dove derivava la sua opinione beh a questo tempo l'ultima volta che l'ha cambiata è l'ultima volta che appare una freccia uscente dal suo sito e via dicendo e quindi seguendo a ritroso indietro nel tempo fino alla configurazione iniziale possiamo capire che l'individuo 1 al tempo ti la sua opinione deve per forza essere stata quella dell'individuo eta 0 e in e dell'individuo 2 a tempo 0 quindi questa è un po' l'idea di come si legge indietro nel tempo con questo campo di realizzazione di di frecce dovute a questi processi di poassoni indipendenti l'evoluzione delle opinioni nel tempo in questa rete finita in particolare se pensiamo un secondo e guardiamo la traiettoria indietro nel tempo di questa eh di questo cammino rosso non è nient'altro che un random walk una passeggiata aleatoria e questo fa sì che il processo di voter sia automaticamente eh ehm collegato le sue statistiche a come i random walk delle passeggiate aleatorie si incontrano nella rete data in particolare si dice si può esprimere anche in forma algebraica specie chi ha eh molto precisa non non lo faccio qui che appunto il processo di voter è duale di un sistema di eh coalescing random walks eh sì rw è la appreviazione per coalescing random walk passeggiata alleatorie e coalescenti vale a dire che se al tempo ti facciamo partire da ogni punto dei random walk per esempio in questo caso due e aspettiamo che si incontrano e poi viaggiano insieme questa è la coalescenza dei due random walk più in generale se facciamo partire n random walk da da tutti i vertici aspettiamo che coalescano tutti e beh per costruzione se è chiara la spiegazione prima un dato di come si legge l'evoluzione delle opinioni beh ci rendiamo conto che eh indietro nel tempo studiando il sistema di coalescing random walk è sufficiente per capire almeno per avere un un limite superiore su quando si raggiunge il sistema raggiungerà il consenso infatti se ci pensiamo un attimo se guardiamo questa figura indietro nel tempo entro il tempo in cui eh tutte che le i cammini i cammini coalescono deve per forza essere che il sistema visto eh forward in time quindi avanti nel tempo deve aver raggiunto consenso eh quindi conclusione eh eh e poiché la geometria è finita e i random walk e la catena quindi eh sono irriducibili e i random walk coalesceranno in tempo finito dunque rivediamo eh da una parte osserviamo che il tempo di coalescenza che definiamo il primo tempo che tutti questi random walk che vanno eh che eh che coalescono è il primo tempo che tutti quanti eh se diciamo hanno un'unica linea ancestrale come in questa figura indietro nel tempo eh questo tempo deve essere finito e in particolare questo tempo il tempo di coalescenza deve essere più grande in distribuzione del tempo di consenso nella nella dinamica di voter eh perché non c'è uguaglianza perché non è detto che per raggiungere il consenso nel voter si deve aspettare che eh l'opinione di un singolo individuo abbia contagiato tutti se ci pensiamo un attimo può anche essere che due individui solo hanno convinto tutta la popolazione a diventare tutti democratici per esempio questo fa sì che non sia un'uguaglianza questo tempo in distribuzione ma sia uno eh domina l'altro però in particolare ci fa eh ci spiega cioè giusto per dire nel disegno ci potrebbe accadere che quando ci sono solo due linee ancestrali se in quel momento i due hanno la stessa opinione allora questo è sufficiente questo stai dicendo esatto questo è un caso in cui il tempo di coalescenza non coinciderebbe con il tempo di consenso se ci sono anche altre realizzazioni pensiamo se inizializziamo per esempio trivialmente con tutti di un'opinione sopra il tempo di consenso è immediato e coalescenza ancora deve partire casi più estremi però il caso appunto che ho detto e che hai specificato tu Francesco è la cosa più ovvia da da pensare che non è che dobbiamo aspettare che andiamo indietro nel tempo sufficientemente per capire che siamo tutti africani chiaro no il contesto eh bene quindi questo fa sì che intimamente studiare come si cristallizza il consenso in un grafo ha che vedere con come i random walk viaggiano le passeggiate e quali escono tra di loro bene sentite ho iniziato cinque minuti più tardi vero che vedo che già sto andando col tempo troppo piano forse accelero tranquillo tranquillo ai cinque minuti anche qualcuno in più non preoccuparti vai tranquillo va benissimo adesso adesso voglio raccontare un po' di risultati noti e in particolare eh come funzionano questi sistemi sul grafo completo è stato capito tanto tempo c'è una teoria bellissima legata a kingman coalescence eh coalescenza di kingman e altre cose mentre invece recentemente ci sono stati dei lavori molto importanti di cui proverò a menzionare i principali e in cui hanno esteso quello che era noto per il grafo completo a tante geometrie eh che soddisfano delle condizioni diciamo buone per far fluire i random walk nella rete è quello che chiamo teoria del campo medio per successione di grafi crescenti cosa voglio dire in questo eh bene voglio descrivere un po' di risultati ma forse in generale per studiare bene il tempo di coalescenza di random walk su un grafo o se volete il tempo di consenso nella dinamica di opinione di del modello di voter la quantità chiave eh risulta essere il tempo di incontro di soli due random walk nel grafo che però partono dall'unica misura invariante eh visto che il grafo è irriducibile che la catena è irriducibile quindi chiameremo tau mit con questo pi tensor pi eh semplicemente il primo tempo che due random walk che partono presi dall'equilibrio che ci mettono a incontrarsi per la prima volta il primo tempo di incontro di due passeggiate dall'equilibrio scusa Luca giusto per essere quindi qua quando parli di random walk passeggiate la toria è quella che da un vertice scegli un vicino uniformemente a caso in questo in questa semplicità in questo caso sì più in generale è vero in caso molto più generale dipende come prendi il grafo pesato ok ok la cosa importante è che il random walk che stai considerando abbia unica misura invariante quindi che la catena sia irriducibile bene allora fatemi descrivere eh i risultati principali che si sa in questa cosa in particolare sotto ipotesi su il grafo dovete pensare che il grafo adesso lo stiamo studiando in funzione di n il numero di noti che cresco e cresce quindi stiamo prendendo delle successioni di grafi che crescono questo è molto naturale per esempio se si prende il grafo completo kn eh ma possiamo prendere altre geometrie di grafi che crescono pensate a un toro eh nel lattice di dimensionale o pensate a modelli di grafi aleatori dove c'è sempre per ogni n per ogni volume numero di nodi c'è la statistica di come si costruisce il grafo eh eh con n nodi e in particolare se consideriamo successioni di grafi quindi che crescono eh asintoticamente eh si dice diciamo adesso in questo contesto parleremo di teoria del campo medio quando il grafo che la successione dei grafi che stiamo considerando soddisfa due ipotesi eh la prima ipotesi è che il tempo di mescolamento scala con n quando il grafo cresce eh è più veloce si mescola prima che ci si incontra che vuol dire questa cosa che il rapporto del mixing time il tempo di mescolamento che qui ho definito che è semplicemente il primo tempo che la catena indipendentemente da dove parta e sia se volete epsilon scegliete un parametro epsilon potete prendere per convenzione un quarto per esempio il primo tempo che la variazione totale e la distribuzione del random walk sia epsilon eh vicina alla misura invariante quindi il primo tempo che raggiunge diciamo quasi l'equilibrio la catena e se vediamo come scala con n con la taglia del grafo questo mixing time è una quantità che si può studiare in diverse geometrie e nelle geometrie per cui questo mixing time diviso l'aspettazione del tempo di incontro di due random walk va a zero in questo senso mescolamento avviene prima dell'incontro allora sono geometrie che soddisfano questa è l'ipotesi cruciale per avere diciamo questa teoria del campo medio per farsi comportare come ci si comporta sul grafo completo se pensate nel grafo completo dopo un numero finito dei passi è mescolato ti dimentichi dopo un passo eh sai quasi dappertutto mentre invece si può far vedere per esempio il tempo di incontro mediamente è di ordine n quindi questo rapporto nel grafo completo va come uno su n a zero la seconda ipotesi cruciale è che la misura invariante che stiamo assumendo esista nella successione dei grafi non sia troppo concentrata per esempio adesso non lo sto mettendo preciso ma dovete pensare tutti i casi tipici per esempio eh nel caso in cui la misura sia uniforme che non abbia più di massa uno su n o cose del genere che non abbia massa abominevole per esempio di ordine uno su un nodo e Matteo magari lo renderà più preciso in certi contesti dopo bene sotto queste due assunzioni che da adesso in poi cammerò condizioni di campo medio si sanno tanti risultati su geometrie che soddisfano queste assunzioni in particolare c'è ci sono una serie di risultati recenti di Roberto Oliveira un collega dell'infa bellissimi questi lavori vi invito a leggerli che estende essenzialmente la teoria della coeriscenza che si conosceva nel grafo completo su queste geometrie la prima cosa principale che eh che voglio menzionare è questa il tempo di quale scienza di n random walk che partono da ogni punto come vi ho fatto vedere prima su questo tipo di geometria si può capire benissimo come si comporta sintoticamente quando il grafo cresce e in particolare questa eh variabile il tempo di incontro è cruciale per capire come funziona il tempo di quale scienza infatti accade che si può dimostrare che il tempo di quale scienza è non degenere su scala della media del del tempo di incontro e in particolare se lo eh normalizziamo con questa media e il tempo di quale scienza converge a una variabile non degenere che è essenzialmente una somma di esponenziali indipendenti una somma una serie infinita di queste esponenziali qui che se volete stanno solo identificando come i le linee ancestrali a che tasso si stanno collegando tra di loro e in particolare vediamo che è mediamente il tempo di quale scienza se il grafo è molto grande è due volte il tempo che ci mettono solo due random walk a a a incontrarsi e quindi questa è una delle prime cose molto belle che eh è vera nel grafo completo ma molto più in generale quindi questo in particolare spiega il legame che c'è tra il tempo di primo incontro del eh dall'equilibrio di due random walk e il tempo di quale scienza su queste geometrie ora vediamo perché questa quantità è anche importante per il processo di voter in particolare fatemi di dire due risultati come avete visto prima il tempo di consenso nel voter in qualche modo era vicino al tempo di quale scienza e infatti si può far vedere che c'è un risultato molto simile anche per il tempo di consenso nel voter come per il tempo di quale scienza di n random walk stessa storia il tempo di consenso se inizializzo le mie opinioni con una bernulli di parametro u indipendente e succede la stessa cosa che normalizzato per la media sulla scala temporale dove si incontrano due random walk converge a una variabile che se volete non è nient'altro che la serie che ho detto prima ma troncata non parte da k uguale a due parte da un numero aleatorio perché c'è proprio quel fatto che stavamo discutendo prima con francesco che a volte non è chiaro come si realizza il consenso non deve essere per forza venire da dall'ultimo ancestor l'ultimo antenato antenato esatto e quindi se sta storia che tipicamente il consenso si raggiunge se partiamo da bernulli quasi il doppio del tempo che ci vuole per far incontrare due random walk dall'equilibrio più un fattore che è questo fattore entropico che viene dall'inizializzazione delle bernulli altra cosa carina che accade è che sulla scala di questo meeting time ecco perché questa quantità è molto importante per far capire sia la colescenza che il consenso accade che solo su questa scala se acceleriamo il voter model il tempo lo acceleriamo proprio e lo guardiamo sulla scala di questo meeting time accade che lì incomincia a poter essere scritto da una ben nota da un ben noto processo di diffusione che è quello che ho scritto qui che è il processo di ride fisher la diffusione di ride fisher cioè detto altrimenti la densità delle opinioni di un tipo per esempio quelle blu che è questa quantità qui sulla scala se aspettiamo sufficientemente abbastanza quando due random walk si incontrano dall'equilibrio in quella geometria beh quella densità si può descrivere approssimare con un processo di diffusione che questo ride fisher diffusion che non è nient'altro che un modo browniano con che parte dalla densità originaria con cui abbiamo inizializzato le nostre opinioni e a una varianza che è accelerato a secondo da questa varianza che non è nient'altro se volete che è una varianza di una bernulli di parametro yt cioè dello stato del sistema della densità se volete questa peraltro questo funzionale si interpreta anche in un contesto genetico questo è quello che si chiama la variabilità genetica è come prendere da una popolazione infinita due individui e vedere qual è la probabilità che sono di due tipi diversi e beh la probabilità di essere di un tipo è y e dell'altro tipo 1 meno y e quindi questo è quello che accade che che il consenso si raggiunge su scala del meeting time e su quella scala questo processo incomincia ad essere diffusivo seguendo il ride fisher diffusion ora vedo che il mio tempo sta iniziando ad essere molto poco quindi accelero un pochino di più e questa è solo una simulazione del ride fisher diffusion che vedete anche su grafi finiti e quello che succede in questo tempo qui vedete il cursore questa è la scala in cui si entra qui la taglia del sistema del grafo era 10 alla 6 in questo grafo specifico che è un grafo di regolare aleatorio va bene e non c'è la diffusione e solo su scala quando si entra su scala del tempo di meeting incominciamo a vedere esattamente il comportamento di diffusivo fino a che questa linea blu fino a che e il sistema non si cristallizza su un'opinione per esempio poteva andare su o giù in questo caso ha raggiunto non lo so tutti tutti i blu tutti i democratici tutti i felici bene e poi vi invito solo questo c'è un lavoro recente un altro lavoro di cui non parleremo oggi in cui abbiamo fatto vedere in un contesto specifico in un di regular random graph che prima della scala di consenso c'è un fenomeno anche interessante di quasi stazionalità e di un plateau il sistema si accorge solo su scala del meeting time di come l'universo all'infinito eh va bene questo vi invito a vedere questo lavoro non ne parleremo oggi ma c'è tanto da 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 studiare di questi modelli va bene adesso per concludere vorrei solo dire un po' eh tre minuti cosa è noto su questo meeting time spero di avervi convinto del messaggio principale quindi su grafi finiti sotto assunzioni di campo medio di diciamo sufficientemente buone per il random walk per viaggiare nella rete capire cos'è la distribuzione del consenso e la coelescenza e come si raggiunge consenso è legato a capire bene come si incontrano due random walk dall'equilibrio nella nella data rete ora capire questa quantità fino a poco tempo fa era stato fatto per pochi modelli come al solito eh noi probabilisti guardiamo a modelli trattabili che il grafo completo e il toro dimensionale eh il lattice e infatti i risultati di Aldo Seffi le cox che appunto si conosceva che in queste geometrie il tempo di meeting è di ordine n se n la taglia il volume del grafo il numero di nodi e e c'è una precostante ben chiara che è legata alla green function e detto ciò recentemente poi hanno incominciato a estendere e capire come si incontrano due random walk ad equilibrio in grafi che non erano così rigidi se volete come il grafo complesso o o o o il toro particolari sono dei lavori di Cooper e Chen che hanno dimostrato che anche nel caso se prendiamo dei grafi aleatori come farà Matteo nella sua parte di regolari beh anche in questo caso il tempo di meeting si ci si può mettere le mani e scala con ordine n più una precostante esplicita del grado ora una cosa interessante è che Matteo recentemente con Federico Sao avevano studiato un primissimo modello che non era di regolare tutti gli esempi dei grafi che ho visto che abbiamo messo qui per cui si conosce sono esempi di grafi regolari nel 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 grado il grado è costante per ogni nodo mentre invece Matteo e Federico in un modello forse un po più semplificato di non è proprio il water model comunque il meeting in certe geometrie di out di regolari cioè di geometrie in cui solo i gradi uscenti era un contesto diretto sono di regolari e mentre invece in questo contesto in questa geometria particolare erano riusciti a studiare questo modello e capire il meeting detto già questa è una dinamica in parallelo è un po diverso da dal contesto che abbiamo studiato noi perché quello di cui vi parlerà Matteo è il fatto che recentemente siamo riusciti a mettere le mani sul meeting time e dunque come conseguenza anche sul tempo di quale scienza di consenso per una classe di geometrie che sono l'insieme dei grafi aleatori orientati sparsi e in particolare dove abbiamo la flessibilità di studi di scegliere che e che che sequenza di gradi vogliamo mettere studiare in particolare come vedete questo risultato avrà anche un impatto applicato per network designer per esempio perché sulla base della struttura dei gradi della rete orientata si può capire se accelera o meno sulla base della struttura dei gradi l'incontro di random walk e più in generale il consenso va bene eh il mio tempo è decisamente andato quindi Matteo mi dispiace per te dovrai accelerare un po' e e forse vi dico solo che per concludere che studiare il meeting time di due random walk su una data geometria in verità se si guarda la catena prodotto non è nient'altro si può trasformare in una domanda di studiare l'itting time il tempo di prima entrata in un punto eh praticamente nella diagonale che avverrebbe eh eh che se se consideriamo il grafo prodotto l'insieme dei nodi che hanno le stesse coppie x x questo vuol dire eh il grafo prodotto che se studiamo il tempo di prima entrata nell'insieme di punti dove eh diciamo i due cammini stanno sullo stesso punto abbiamo studiato il meeting time in termine di hitting time sulla catena prodotto e quello che farà Matteo è lo studierà in un contesto specifico ma collasseremo il grafo cioè questa diagonale quest'insieme di punti della diagonale li collazziamo in un in un punto solo e in questo modo ci riusciamo a studiare una catena collassata del grafo prodotto e trasformare le questioni di meeting time in questione di hitting time va bene questo è più o meno tutto quello che volevo dirvi eh avrei aggiunto qualche dettaglio ma il tempo è questo e Matteo sono convinto che vi racconterà un po' questi tipi di risultati e nel contesto specifico dei grafi orientati aleatori e vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 mille Luca allora eh sì siamo andati eh un pochettino oltre ma abbiamo iniziato dopo quindi ce la prendiamo un attimo tranquilla io direi eh se ci sono domande eh più che volentieri da parte di chiunque di un po' accendere la telecamera il microfono e parlare forse una curiosità ehm la possibilità di introdurre tre diciamo opinioni che competono eh è stata mai studiata troppo infatti sì sì assolutamente sì nel senso che ma innanzitutto pure se partiamo da n opinioni sistema di rando walk qualescenti eh domina il tempo di consenso anche a partire da n opinioni eh e poi sì ci sono risultati più generali ma dipende uno che vuole studiare eh per esempio la convergenza Wright Fisher vi invito a prendere i lavori di Chen Chen e Cox si sa per eh per classi di modelli che generalizzano il voter model con meccanismi molto più complicati possiamo appunto più opinioni eh ma anche meccanismi diversi di trasmettere l'opinione quindi ci sono dei framework eh più generali eh sì in particolare si si possono ottenere risultati ci sono nel caso di n opinioni. Grazie. Eh anche io volevo fare una una domanda veloce eh queste condizioni di campo medio che tu hai formulato eh cioè immagino qualche classe qualche esempio cioè il grafo completo è quello in cui tutti i vertici sono collegati a tutti gli altri eh immagino i grafi che soddisferanno queste condizioni si somiglieranno un po' a questi ma eh qualche esempio no? Beh assolutamente sicuramente quelli che assomigliano al grafo completo sì ma più in generale sono condizioni abbastanza abbastanza soddisfatte da tanti grafi anche per certi aspetti lontani dal grafo completo. Ok. Per esempio grafi sparsi che hanno eh una struttura locale un Galton Watson tree un un local week limit eh che è Galton Watson eh a secondo dai dettagli ma tante geometrie di questo tipo. Matteo adesso ne parlerà per esempio la classe di modelli sotto certe condizioni su gradi per geometrie che che hanno struttura di 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 grado eh molto disomogenea anche si possono soddisfare. Ho capito. Quindi sono due assunzioni che sono formulate più o meno equivalenti nei due lavori che ho menzionato di Oliveira e Chen e Cox. Ok. Matteo racconterà un altro risultato anche dove si hanno assunzioni simili per catene di Markov per studiare il tempo di hitting e le sue eventuali esponenzialità. Quindi sono condizioni abbastanza naturali soddisfatte da ampie classi di geometrie. Ok. Matteo ci dirà di più. Francesco forse può essere utile generalmente che anche il toro di dimensionale con di maggiore o meno di tre anche questo è campo medio in un certo senso. Ah sì. Quello che importa è che in qualche modo sia eh localmente assomiglia un grafo transiente. Questa è la è il succo. Quindi molto ampio in realtà. Sì. Ok. Perfetto. Adesso vedrete proprio questi aspetti un po' più non so quanto nel nella seconda parte. Che dici Valentina? Cosa facciamo? Eh. Ah cosa vogliamo fare? Iniziamo? Qualche minuto? Possiamo anche cominciare direi. Ah ok. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda o cominciamo con la seconda parte? No. Non ci sono domande direi allora. Iniziamo. Mi spiace Luca e Matteo le sigarette più tardi eh. Va bene. Allora. Mi sentite bene? Allora buon pomeriggio a tutti di nuovo e grazie ancora Valentina e Francesco per l'opportunità di presentare qui la nostra ricerca. Come ha accennato Luca in questa seconda mezz'ora mi occuperò di raccontarvi un po' più nel dettaglio uno degli esempi tra quelli da lui menzionati a cui abbiamo lavorato insieme in collaborazione con Federico Capanoli e Raciattastra dell'Università di Leiden. Quindi ops ok. Il seminario si articolerà in tre parti. Inizierò col discutere brevemente quali sono le motivazioni sottostanti la nostra ricerca e il contesto applicativo da cui queste motivazioni hanno origine. Questo ci porterà a introdurre il modello di grafo aleatorio che poi ci accompagnerà per il resto della presentazione. Quindi vi introdurrò ai risultati principali e cercherò di rileggerli alla luce delle motivazioni applicative descritte nella prima parte. Per concludere presenterò gli ingredienti principali della dimostrazione per quanto possibile. Cercherò almeno di restituirvi l'idea del flusso di argomenti che abbiamo utilizzato e nel farlo richiamerò un po' degli ingredienti descritti da Luca nell'ultima parte del suo seminario. Ok quindi partiamo dall'inizio. Quindi l'idea qual è? È quella di studiare il modello del votante nel contesto applicativo della teoria delle reti e questo significa essenzialmente cercare di capire quali sono le proprietà della rete che favoriscono o che velocizzano e rallentano il tempo in cui tipicamente viene raggiunto il consenso. In quest'ottica il primo ordine di domanda che è naturale chiedersi è quale sia l'effetto dei gradi sulla velocità con cui si raggiunge il consenso. Per esempio a parità di numero di archi si raggiunge il consenso più velocemente in un grafo in cui tutti hanno lo stesso grado oppure in un grafo in cui la maggior parte dei vertici ha un grado molto piccolo ma ci sono pochi hub che invece hanno un grado molto grande che alzano quindi la media. Ovviamente questa domanda non è ben posta perché il tempo medio di consenso dipenderà da tutte le peculiarità del grafo in analisi non solamente dalla sequenza dei gradi. Tuttavia c'è un modo che è piuttosto standard di inquadrare questa domanda in un contesto rigoroso che è quella della teoria dei grafi elettori. L'approccio è più o meno il seguente. Fissiamo n, la taglia del nostro grafo, e fissiamo la sequenza dei gradi, ovvero fissiamo il grado di ciascun vertice e consideriamo la misura uniforme sullo spazio dei grafi che hanno la nostra taglia data e che soddisfano i gradi che abbiamo imposto. Allora, in questo caso il tempo medio di consenso sarà comunque una variabile elettoria, una variabile elettoria che sarà misurabile una volta che osserverò il grafo campionato. Tuttavia, se nel limite di taglia grande questa variabile elettoria soddisfa una legge dei grandi numeri, ovvero è ben concentrata intorno a un valore deterministico, beh, innanzitutto questo valore deterministico dipenderà solamente dai parametri del nostro modello, ovvero sarà a funzione dei gradi. E dunque sarebbe possibile rispondere alla domanda malposta di qui sopra. Quindi questo è l'approccio che dobbiamo tenere in mente e per il resto della presentazione mi concentrerò su un tipo particolare di grafi, che sono i grafi orientati, ovvero grafi in cui ogni arco viene con una sua direzionalità. In particolare quindi ogni vertice avrà una coppia di gradi, il grado entrante e il grado uscente, che stanno a quantificare il numero di frecce che entrano e che escono da quel dato vertice. E giusto per chiarezza, quando parliamo di passeggiata elettoria semplice a tempo continuo, quello che ovviamente è sempre un processo di Markov sullo spazio, sul insieme dei vertici, che a tasso 1 seleziona una delle frecce uscenti, il vertice che sta visitando al momento, e si muove dall'altra parte. Per quanto riguarda il modello del votante invece mi atterrò al setup descritto da Luca, quindi la configurazione iniziale sarà sempre una configurazione prodotto di Bernoulli di parametro 1, di parametro U, perdonatemi, e di nuovo a tasso 1, indipendentemente ciascun vertice, si attiverà, sceglierà uno dei suoi vicini uscenti uniformemente a caso e ne adotterà l'opinione. Ok, andiamo quindi a definire rigorosamente il modello di grafi orientati che discuteremo oggi. Quindi fissiamo innanzitutto un insieme di parametri, che saranno i gradi entranti e uscenti di ciascun vertice. Questi saranno dei parametri fissati. Per ogni n ho il mio insieme di parametri, che sono due vettori di lunghezza n. E poi facciamo delle assunzioni. La prima assunzione è abbastanza ovvia. Ho bisogno di richiedere che la somma dei gradi entranti e dei gradi uscenti coincida, affinché sia possibile avere un grafo che abbia quei gradi. Chiamerò m questa somma e quindi m non è nient'altro che il numero totale di archi orientati del mio grafo. E poi abbiamo un'assunzione più sostanziale. Sarà importante infatti mettersi nel contesto sparso, ovvero in un contesto in cui ciascun vertice ha un numero limitato uniformemente in n di vicini entranti ed uscenti. E questa prima assunzione è qui. E inoltre, per avere un grafo che soddisfi delle buone proprietà topologiche, come esempio essere connesso, sarà importante anche richiedere che il minimo dei gradi entranti ed uscenti sia almeno due. In realtà nel nostro articolo consideriamo delle assunzioni più deboli in diversi aspetti, ma sarà più semplice presentare il risultato sotto questa assunzione. Bene, abbiamo quindi definito i parametri del nostro modello e le assunzioni che facciamo su questi parametri. Come ottenere un grafo allatorio orientato che soddisfi questi vincoli sui gradi? Sarà sufficiente prendere un'abiezione aleatoria tra teste e code di frecce. Vi spiego meglio con un disegno. Quindi fissiamo n uguale 6 e supponiamo che i primi tre vertici abbiano grado uscente 3 e grado entrante 2, rappresentati da tre semiarchi uscenti e due semiarchi entranti per ciascun vertice, e viceversa per i vertici da 4 a 6. Adesso che faccio? Prendo semplicemente un'abiezione uniformemente a caso tra l'insieme dei semiarchi uscenti e l'insieme dei semiarchi entranti e l'abiezione che ottengo la proietto in una struttura di grafo orientato, ovvero semplicemente mi dimentico dell'identità dei semiarchi. Quindi così facendo ottengo una cosa di questo tipo e da notare che c'è una certa probabilità positiva che ci siano più archi che hanno la stessa coppia origine e destinazione, come in questo caso, o anche archi che hanno lo stesso vertice sia come origine che come destinazione. Ora, tuttavia vi credo di credermi sul fatto che, sebbene c'è probabilità positiva che questo avvenga, la presenza di queste, chiamiamole impurità, non ha praticamente nessun effetto su quello che sto per raccontarvi, quindi se vi è più comodo vi chiedo di tenere a mente che il grafo che campioniamo lo condizioniamo a non averne di queste impurità. Ok, quindi questo è il modello di grafo che considereremo. Cerchiamo di riassupere un secondo, quindi abbiamo per ogni n fissato una bisequenza di gradi, radentranti e gradiuscenti per ciascun vertice, e chiamiamo g di n, per ogni n, il grafo aleatorio che verrà campionato con la procedura che ho appena descritto. E chiamerò p la legge di questa successione di grafi aleatori. E userò la locuzione il grafo soddisfa la proprietà p con alta probabilità ad intendere che la probabilità che il grafo ennesimo nella mia successione soddisfa la proprietà p nel limite per n che va infinito converge a 1. In particolare quello che ci interesserà dimostrare avere alta probabilità è la seguente proprietà p, ovvero il tempo medio di incontro di due passeggiate inizializzate indipendentemente all'equilibrio opportunamente riscalato per la taglia del mio grafo è ben approssimata da una quantità deterministica che è funzione solamente dei parametri del mio modello, ovvero dei gradi. Ok, iniziamo col guardare il processo più semplice, la passeggiata all'alatoria semplice, una sola sul mio grafo. Infatti la passeggiata all'alatoria semplice è stata studiata piuttosto nel dettaglio su questo tipo di grafi negli ultimi anni e ci sono un po' di risultati che sarà utile conoscere per ciò che segue. In particolare sappiamo che sotto le ipotesi che vi ho appena fatto sulla successione dei gradi con alta probabilità il processo sarà ergotico, cioè metterà un'unica misura invariante pi greco. Questa misura stazionaria pi greco, c'è una mano alzata. Prego. Una domanda. Antonio. Scusate. Prego. Forse l'alzata per sbaglio. Ah ok, ok. Continuo allora. Procedi. Quindi questa misura stazionaria sarà quindi che cosa? Un vettore aleatorio di n componenti. Un vettore aleatorio non banale non concentrerà, visto come vettore aleatorio, intorno a niente. Tuttavia, sebbene questo vettore aleatorio è non banale, è possibile studiare nel dettaglio il tempo di mescolamento, ovvero il tempo necessario per la distribuzione della passeggiata all'alatoria per raggiungere la misura stazionaria pi greco in un senso di variazione totale. E sappiamo che questo tempo di mescolamento scalerà logaritmicamente nella taglia del grafo. La terza proprietà che conosciamo e che sarà importante tenere a mente è che la misura stazionaria è delocalizzata, ovvero è vicina in un certo senso alla misura uniforme, in quanto il massimo e il minimo tra le entrate del vettore pi greco il rapporto tra di loro scalano al più polilogaritmicamente nel volume del mio grafo. Questi risultati sono stati ottenuti in una serie di articoli a cui ho avuto la fortuna di partecipare durante il mio dottorato e che differiscono tra di loro non solamente per il tipo di domanda che intendono affrontare, ma anche per il tipo di assunzione sulla sequenza di gradi che viene fatta. Ma ciò che è importante per noi in questa presentazione è che queste tre proprietà che vi ho enunciato nei riquadri in blu dovrebbero suggerire già che quelle che Luca chiamava condizioni di campo medio sono soddisfatte dal grafo G campionato nel modo che vi ho descritto con alta probabilità. Infatti il tempo di mescolamento è piccolo in un certo senso e la misura stazionaria è non troppo concentrata, come diceva lui, effettivamente in un senso rigoroso qua assomiglia a una misura uniforme. Ok, quindi sono partito dalle motivazioni applicative, vi ho descritto il modello di grafo e vi ho raccontato qualche risultato nodo per il comportamento della passeggiata allatoria sempre su questo grafo, siamo quindi pronti per enunciare i risultati principali, ma per farlo ho bisogno preliminarmente di introdurre quattro statistiche notevoli della sequenza dei gradi. Quindi per statistiche intendo semplicemente dire che sono delle quantità reali che riassumono le proprietà della mia sequenza dei gradi e per notevoli intendo solo dire che mi saranno comode per le stride avvenire. Quindi la prima statistica notevole la chiamerò delta che non è nient'altro che il rapporto tra il numero di archi e il numero di vertici del mio grafo e quindi coincide con il grado medio se volete. La seconda statistica anche è piuttosto semplice, beta non è altro che la somma dei gradi entranti elevati al quadrato normalizzato per il numero totale di archi. Anche questa può essere letta a parole in qualche modo in quanto è il rapporto tra momento secondo e momento primo della sequenza dei gradi entranti. Per definire le altre due statistiche coordinate avrò bisogno di introdurre prima una distribuzione di probabilità sullo spazio dei vertici, che è questa distribuzione muin. È semplicemente una misura di probabilità che pesa ogni vertice con probabilità proporzionale al suo grado entrante. Infatti le ultime due statistiche notevoli possono essere viste come delle medie di certe funzioni in accordo a questa misura di probabilità. Infatti rho che cos'è? Non è nient'altro che la media dell'inverso del grado uscente di un vertice campionato con legge muin. Analogamente gamma è la media del rapporto tra grado entrante e grado uscente di un vertice campionato di nuovo secondo muin. Ora vi rassicuro non è importante tenere a mente queste quattro quantità per il resto della presentazione. Il messaggio che volevo comunicare con questa diapositiva era piuttosto quello che queste sole quattro quantità reali, che tra l'altro sotto le nostre assunzioni sono tutte di ordine 1, non dipendono, non crescono o vanno a 0 con N, insomma, sono quantità che restano di ordine 1, sono le uniche quattro quantità che determinano in un certo senso il tempo di consenso per il modello del votante nel limite per N che va infinito. Infatti, questo è il risultato principale. Chiamiamo θ questa funzione delle quattro statistiche notevoli che abbiamo visto adesso. Allora, quello che possiamo dimostrare è che il tempo medio di incontro tra due passeggiate inizializzate a stazionalità è ben approssimato in probabilità dal prodotto di θ, che quindi è una quantità di ordine 1, e il volume del grafo. E di conseguenza, alla luce di quello che ci ha raccontato Luca, il tempo di consenso per il modello del votante inizializzato con Bernoulli indipendenti di parametro U, se riscalato per θ moltiplicato per la taglia del grafo, converge in probabilità a una quantità nota ma che peraltro non dipende dal grafo in nessun modo, né dai dettagli del grafo né tantomeno dai suoi gradi, ma dipenderà solamente dalla scelta del parametro della Bernoulli con cui inizializziamo il processo di voter. Ok, quindi cerchiamo adesso di leggere questo risultato alla luce delle motivazioni che ho dato all'inizio. Vi ricordate le domande che ho fatto sul ruolo dei gradi nel determinare il tempo di consenso? La risposta implicitamente ci dà il teorema precedente è che per capire l'effetto dei gradi è sufficiente studiare questa quantità θ. E quindi quello che facciamo è riscrivere questa quantità θ con un po' di manipolazioni algebriche, molto semplice, siamo in grado di riscriverla in questo modo. Ora vi ricordo chi sono le quantità che appaiono qua, quelle colorate sono quelle importanti. Al numeratore abbiamo il grado medio, δ, che quindi è il parametro che controlla la densità di archi nel mio grafo. Invece al denominatore abbiamo β, che era il rapporto momento secondo-momento primo per la sequenza dei gradi entranti, quindi lo posso leggere come un parametro che controlla la variabilità dei gradi entranti. Minimo che può valere è δ, e questo succede solo se il grafo è inregolare, ovvero tutti i vertici hanno lo stesso grado entrante, mentre più sono disomogenei i gradi entranti più questo β può essere grande. L'altra quantità α, in verde, è una quantità che non avevo definito prima, è semplicemente una funzione delle altre due statistiche notevoli, gamma e ρ. Non è importante ricordare come erano definite gamma e ρ, ciò che è importante sapere è che questo α può essere letto come un parametro che ci dice qualcosa sulla correlazione tra grado entrante e graduscente dei singoli vertici, ovvero α assume il suo valore minimo, che è 1, quando la sequenza dei gradi che fissiamo è euleriana. Che significa euleriana? Significa semplicemente che ciascun vertice ha grado entrante e grado uscente che coincidono. Quindi questo è un grafo euleriano e quando un vertice che ha grado entrante 3 allora ha anche grado uscente 3. Quindi sono in qualche modo perfettamente correlate, se volete, i gradi entrante e i gradi uscente di ciascun vertice. Quando è che invece α è grande? Alfa è grande quando, per un vertice tipico, diciamo, il rapporto tra grado entrante e grado uscente è o molto più piccolo di 1 o molto più grande di 1. Quindi questo α controlla un po' la correlazione negativa, se vogliamo, tra grado entrante e grado uscente. E poi abbiamo un'ultima quantità che non ho colorato. Non l'ho colorata perché non è tanto interessante, infatti è una funzione della statistica notevole ρ, ma questa funzione assume sempre valori tra 0,4 e 0,5 indipendentemente dal valore di ρ e quindi indipendentemente dalla sequenza dei gradi. E quindi, come vedete, il suo effetto all'interno di questa quantità è abbastanza limitato, perché α, β e δ possono assumere valori potenzialmente illimitati, mentre questo fluttua molto poco al variare della sequenza dei gradi. E quindi possiamo trarre una morale, ovvero possiamo in qualche modo rispondere alla domanda che avevo posto all'inizio della presentazione. Infatti, a parità di archi, ovvero fissato il parametro Δ, la rapidità con cui si raggiunge il consenso aumenta, ovvero se vogliamo θ diminuisce, se si favorisce la variabilità dei gradi entranti, β grande, o se si favorisce la correlazione negativa tra i gradi entranti e i gradi uscenti, ovvero se α è grande. Ok, quindi arriviamo all'ultima parte della presentazione in cui cercherò di darvi un po' qualche euristica e qualche ingrediente della dimostrazione. E lo farò iniziando con raccontarvi quello che non ho avuto tempo, Luca, di raccontarvi nell'ultima parte del suo seminario, ovvero quello che ha definito brevemente come il processo collassato. È un processo che indichiamo con P tilde, che ha per spazio degli stati essenzialmente lo stesso spazio degli stati del processo prodotto di due passeggiati indipendenti, cioè l'insieme dei vertici al quadrato, eccezion fatta per la diagonale, ovvero per le coppie XX con la stessa vertice, che viene collassato in un unico vertice, che chiamerò con questo simbolo qua, questo delta storto, e che per semplicità continuerò a chiamare la diagonale, ma sarà un singolo stato in questo processo. Le transizioni di questo processo saranno esattamente uguali a quelle del processo prodotto, eccezion fatta per la diagonale. Come si esce dalla diagonale? Beh, si uscirà a tasso 2 e quando si esce si seleziona il nuovo stato XY come segue. Prima seleziono una delle due coordinate, la prima o la seconda con probabilità uniforme, un mezzo o un mezzo. Supponiamo che ho scelto la prima coordinata, allora l'identità di questa prima coordinata verrà scelta con probabilità proporzionale a P greco quadro. E la seconda coordinata, la rimanente coordinata, la sceglierò invece uniformemente a caso tra i vicini uscenti della prima coordinata. Se faccio questa scelta per le transizioni per uscire dalla diagonale, la cosa interessante è che la misura stazionaria di questo processo, che chiamerò P greco tilde, è essenzialmente la stessa misura stazionaria del processo prodotto, in quanto P greco tilde di una coppia XY con X diverso da Y, sarà semplicemente il prodotto da P greco X e P greco Y, mentre P greco tilde della diagonale sarà data dalle somme delle entrate di P greco e le vado al quadrato, quindi sarà proprio la misura della diagonale per il processo prodotto. E la cosa più interessante da notare è che il tempo di incontro tra due passeggiate stazionarie indipendenti ha esattamente la stessa distribuzione del tempo di prima visita della diagonale per il processo tilde inizializzato con la sua misura stazionaria. Questa è l'ultima affermazione con cui Luca ha chiuso il suo seminario. Quindi abbiamo un'identità in distribuzione tra il tempo di incontro tra due passeggiate indipendenti e il tempo di prima visita di uno stato per una catena. Entrambe le catene sono stazionarie, vengono inizializzate a stazionarietà. E perché è interessante questa identità in distribuzione? Perché sotto opportune quelle che chiamerebbe Luca condizioni di campo medio, i tempi di prima visita per catene stazionarie sono ben approssimate da variabili esponenziali. Questa è una cosa piuttosto classica che può essere formalizzata in diversi modi e il modo che utilizzerò in questo contesto è essenzialmente dovuto a Cooper e Freeze che prende il nome del lemma del tempo di prima visita. Per rinunciare il lemma ho bisogno di presentare prima due quantità, introdurre due ingredienti. Il primo ingrediente è questa team blue che è essenzialmente il tempo di mescolamento della nostra catena. Qua è il tempo di mescolamento in variazione totale per come l'ha definito Luca per un'altra quantità che dipende solamente dal minimo della misura stazionaria, ma lasciatemelo chiamare il tempo di mescolamento moralmente della nostra catena. E poi abbiamo bisogno di una seconda quantità che è un tempo locale, ovvero è il tempo trascorso dal processo tilde nella diagonale tra zero e il tempo di mescolamento per il processo che però questa volta è inizializzato nella diagonale. Questa assomiglia a una funzione di green, se la guardate bene. Dati questi due ingredienti abbiamo un'assunzione adesso. L'assunzione è che il prodotto tra il tempo di mescolamento e π della diagonale va da zero nel limite di taglia grande. Questo effettivamente è un modo per quantificare quelle che Luca chiamava condizioni di campo medio, perché quando è che questo limite va a zero? Quando in qualche modo il tempo di mescolamento è piccolo e la misura stazionaria non è troppo concentrata in delta, quantomeno non è troppo concentrata nella diagonale. Sotto questa assunzione quello che si può dimostrare è che la distribuzione del tempo di prima visita è ben approssimata in questo senso moltiplicativo molto forte da una variabile esponenziale, il cui tasso, questo lambda, è asintoticamente dato dal rapporto tra la quantità verde e la quantità rossa, ovvero dal rapporto tra la misura stazionaria della diagonale e questo tempo locale r. Quindi ricapitoliamo un secondo, abbiamo un'identità in distribuzione che ci dice che se riusciamo a giocare bene con questo lemma del tempo di prima visita, allora il tempo a cui siamo interessati, questo tempo di incontro di due passeggiate stazionarie, è ben approssimato di un esponenziale di cui conosciamo almeno una formulazione del suo rate, come rapporto tra due quantità. Quindi a questo punto la strategia di prova spero sia piuttosto chiara, cioè dobbiamo semplicemente stimare il tempo di mescolamento della nostra catena tilde, calcolare questi due limiti, cioè dobbiamo sperare in qualche modo che questo tempo locale, nel limite per n che va infinito, converga, ammetta una legge dei grandi numeri, cioè converga in probabilità una quantità costante che dipende solo dai gradi e non dalla realizzazione del grafo e che lo stesso valga per la misura stazionale della diagonale quando opportunamente rinormalizzata. A questo punto se so fare queste tre cose, devo solamente verificare che le assunzioni del lemma che ho appena dato siano verificate, queste assunzioni di campo medio, e a quel punto il lemma mi dice direttamente guarda, il tuo tempo di incontro sarà ben approssimato da una variabile esponenziale e il tasso di questa esponenziale sarà dato proprio dal rapporto tra il limite rosso e il limite verde a meno di moltiplicare tutto per la taglia del grafo. Ok, quindi in questi ultimi pochi minuti cercherò di darvi un'idea su questi tre ingredienti, la P in blu, la P in verde e la R in rosso. Partiamo dal tempo di mescolamento. Non è troppo difficile controllare questo tempo di mescolamento e far vedere che è polilogaritmico nella taglia del mio grafo. Non voglio perdere troppo tempo su questo, ma vorrei darvi almeno un'intuizione del perché deve essere vero. Se pensiamo invece che al processo tilde alla passeggiata alla Toria Semplice, allora questa identità sintotica è ovvia, alla luce dei risultati che vi ho menzionato nella prima parte, in quanto vi ho detto che abbiamo un controllo sui valori estremi di questa misura stazionaria e sul tempo di mescolamento. Se inseriamo queste stime già note all'interno di questa espressione, otteniamo un polilog. Quindi per la passeggiata della Toria Semplice questa stima sintotica è ovvia date le conoscenze che abbiamo. Se è ovvia per la passeggiata alla Toria Semplice sarà anche ovvia per il prodotto di due passeggiata della Toria Semplice, semplicemente per la natura prodotto del processo. E quindi l'unica cosa che rimane da fare è trovare un opportuno accoppiamento tra il processo prodotto e questo processo tilde che ci consenta di estendere questo risultato anche alla catena tilde stessa. Questa è un po' l'idea quindi, cioè è solo un problema di accoppiamento, perché per il processo prodotto è facile questa cosa, è facile, è facile alla luce dei risultati noti. Ok, il secondo ingrediente era la misura stazionaria della diagonale, quindi questa è somma delle entrate di pi greco le vado al quadrato. Abbiamo detto prima che questa pi greco è un vettore aleatorio non banale, perché in quanto vettore aleatorio non ammettono la legge dei grandi numeri, cioè non converge in probabilità un altro vettore deterministico. Però quello che vogliamo fare qua è una cosa ben più debole, non ci interessa pi greco in quanto vettore o pi greco quadro in quanto vettore, ma ci interessa una sua forma aggregata, cioè dobbiamo sommare le entrate di pi greco al quadrato, quindi è lecito aspettarsi che questa somma riscalata opportunamente ammetta un limite deterministico e questo è esattamente quello che facciamo. Come vedete questo limite deterministico poi dipenderà da queste quattro statistiche notevoli che appariranno quindi in questo limite. Per farlo dimostriamo qualcosa di leggermente più generale, ovvero dimostriamo che medie di funzioni locali rispetto a pi greco quadro ammettono la legge dei grandi numeri. Che intendo dire con questo? Che se prendiamo una qualsiasi funzione limitata di due variabili e siamo intenzionati a valutare questa funzione nel grado uscente e nel grado entrante di un dato vertice e aggregare, cioè mediare questa funzione rispetto a pi greco quadro, allora nel limite questa cosa equivale a prendere la stessa funzione ma invece che pesare per pi greco quadro pesare con questa misura deterministica qua, che dipende solo dalle statistiche notevoli e dalla distribuzione dei gradi entranti. Quindi questo è semplicemente ci dice che questa misura pi greco quadro converge a quest'altra misura in qualche modo in un senso debole, nel senso che le medie convergono. Ok, l'ultimo ingrediente, ci siamo quasi, forse il più interessante, è questo tempo locale nella diagonale. Chi di voi si interessa anche solo un po' alla teoria dei graffi aleatori saprà che, specialmente in un contesto sparso, una delle tecniche più utilizzate di analisi è l'approssimazione locale del grafo con un albero di Calton-Watson. La differenza con quello che facciamo qui qual è? Che non ci interessa tanto approssimare il grafo per sé, ma ci interessa piuttosto approssimare il grafo visto dalla prospettiva del processo tilde. Quindi quello che farò in quest'ultima slide è definire un modello giocattolo molto semplice e euristicamente cercare di convincervi che questo modello giocattolo è l'ingrediente giusto da studiare per avere un guess, quantomeno per il limite di questa quantità in rosso. Quindi fatemi definire questo modello molto semplice. Costruisco un albero di Calton-Watson in questo modo qui. La radice dell'albero ha un numero di figli che è distribuito come il numero di vicini uscenti, come il grado uscente, di un vertice campionato con probabilità proporzionale a pi greco quadro. Questo rappresenta in qualche modo la prima coordinata di quando esco dalla diagonale. Ricordate c'erano due passi per farla. Il primo passo era selezionare una coordinata con pi greco quadro e l'altra invece doveva essere scelta uniformemente a caso tra i suoi vicini. Quindi questo vuole in qualche modo, in maniera un po' abbozzata, rappresentare questo primo pezzo dell'uscita della diagonale. Tutti gli altri vertici del mio albero di Calton-Watson invece avranno la stessa distribuzione per il numero dei figli, ovvero avranno un numero di figli distribuito come il grado uscente di un vertice campionato con probabilità proporzionale al suo grado entrante. E questo perché a priori, nel costruire il mio grafo, se mi chiedo qual è la probabilità che questo semiarco sia attaccato proprio al vertice numero 42, questo sarà semplicemente proporzionale a qual è il grado entrante del vertice 42. Quindi costruisco così il mio albero. Quest'albero sarà infinito perché ogni vertice avrà almeno due figli per assunzione del nostro modello. Adesso piazzo due passeggiate aleatorie, una nell'origine, in rosso, e una in un figlio uniformemente a caso dell'origine, in verde. E le chiamo la passeggiata che rincorre e la passeggiata che scappa per motivi che saranno chiari in un secondo. Che fanno queste passeggiate? Si muovono indipendentemente a tasso 1. Possono seguire le frecce solo dalla quota alla testa, quindi possono andare solo in giù. Si muovono indipendentemente a tasso 1 e può succedere che si incontri in un certo momento. E se si incontrano, definisco il mio modello giocattolo dicendo che una volta incontrate ricomincio da capo. Cioè ricostruisco un altro albero di Carlton Watson indipendente, ripiazzo le mie due passeggiate, una nell'origine, una in un figlio uniformemente a caso dell'origine, e queste ricontinuano a muoversi. Può anche succedere però che la passeggiata rossa, quella che insegue, devi, ovvero scelga un arco che la conduce su un sottoalbero che non è lo stesso in cui riposa la passeggiata verde. Se questo avviene, dato alla struttura orientata del mio albero, queste due passeggiate non si potranno mai più incontrare. E quindi in questo caso dico semplicemente che il mio processo termina. L'affermazione che faccio, e che spero di, quantomeno che vi convinca almeno a livello euristico, è che il tempo locale a cui sono interessato, la r, è ben approssimato in qualche modo, da il numero medio di incontri, se vogliamo, o il tempo medio trascorso insieme delle due passeggiate, in questo modello giocattolo. Effettivamente questa assomiglia ancora di più a una funzione di green, perché stavolta un integrale tra zero e infinito, e utilizzando degli argomenti classici di transienza non è difficile mostrare che il valore atteso di questo tempo locale è dato essenzialmente dall'inverso della probabilità che le due passeggiate non si incontrino mai. E questa probabilità qua, o il suo inverso, se vogliamo, la riusciamo a calcolare esplicitamente e sarà quella che ci darà il limite finale per la quantità in rosso. Ok, questo è tutto quello che volevo raccontarvi. Concluderei riassumendo un po' quello che ci siamo raccontati in quest'ora. Quindi, Luca ci ha convinto del fatto che il tempo di consenso per il modello del votante e il tempo di incontro di due passeggiate stazionarie sono intimamente legati tra loro se il grafo sottostante soddisfa delle opportune condizioni di campo medio. E inoltre, questo tempo di incontro può essere riportato a un tempo di prima visita e, dati i risultati nodi, è possibile dimostrare che sarà sintoticamente distribuito come una variabile esponenziale. Poi vi ho presentato un modello di grafi aleatori e vi ho dimostrato che grafi campionati con questo modello soddisfano con alta probabilità quelle che Luca chiamava le condizioni di campo medio. E dunque vi ho dimostrato che il tempo di incontro di due passeggiate aleatorie in media scalerà come la taglia del grafo per una quantità che dipende solamente dai parametri di questo modello. E quello che era interessante notare è che questa quantità qua, che dipende solamente dai gradi, in realtà non dipende da, insomma, i dettagli di queste sequenze di gradi, ma dipende solamente da quattro statistiche notevoli e quindi rende questa funzionità piuttosto semplice da analizzare in un contesto applicativo. Ok, questo è tutto quello che volevo raccontarvi, vi lascio con una bella simulazione e grazie mille per l'attenzione. Grazie, grazie Matteo e grazie anche Luca. Allora, c'è qualcuno che vuole uscire dalla timidezza e fare qualche domanda? Francesco, posso fare una domanda io? Certo. Grazie a tutti, grazie a Luca anche. Ascolta, qui avete fissato i gradi e mandate N all'infinito, giusto? Il numero di vertici, è possibile studiare delle situazioni intermedie in cui il grado, cioè la dimensione tende infinito insieme al numero di vertici? Si sa qualcosa? Ad esempio, semplicemente nel toro magari, il toro d-dimensionale ma D dipende da N, cioè è tutto noto in queste situazioni intermedie? Diciamo che un contesto più simile a quello che ho raccontato potrebbe essere un modello tipo Erdos-Reni, supponiamo, anche in diretto, non è la direzionalità, il fatto che gli archi siano orientati non è veramente cruciale. Immaginiamo un Erdos-Reni in un regime di connettività, quindi dove i gradi scalano come logaritmo di N. Questo risponde alla domanda che mi stai facendo? Sì, ok, in questo caso è più semplice in realtà l'analisi rispetto a questo caso qua, perché le ipotesi di campo medio sono più semplici, in qualche modo le assunzioni del tempo di prima visita sono facilmente verificate, perché la R in rosso, per esempio, è facile far vedere che è uguale a 1. Qual è il motivo? Perché in qualche modo quando sei sulla diagonale, le due passeggiati si separano e diventa immediatamente molto difficile rimetterle vicine, perché essendo il grado grande la dispersione è immediata e quindi quella R si può far vedere che se i gradi tendono a infinito converge a 1. E lo stesso vale per la P greco, in qualche senso, perché la P greco, quando i gradi sono grandi, la misura, perlomeno in contesto di Erdos-Reni diciamo, la misura stazionaria si avvicina molto effettivamente alla misura uniforme e avvicinandosi molto alla misura uniforme la misura della diagonale sarà circa 1 su n e quindi in un certo senso sia l'ingrediente verde che l'ingrediente rosso convergeranno in probabilità 1 e quindi il rapporto il teta finale sarà 1. Quindi in qualche modo il caso sparso, veramente sparso, è quello non banale perché escono fuori dei dettagli che in un caso un po' più denso già perdi di vista. Non spero di aver risposto al tipo di domanda che hai fatto. Qualche altra domanda? Io ho una domanda. Allora, spero di non avere, diciamo, che non sia tutto troppo ingenuo, ma in qualche senso interessa il tempo di coalescenza di due passeggiate relatorie che per definizione è il tempo in cui la coppia incontra la diagonale. Da un certo punto di vista, come dire, quindi il processo prodotto ci interessa solo fino al primo istante in cui entra nella diagonale. Quindi definire, una volta che coalesciamo la diagonale in un punto, definire le probabilità di transizione al di fuori della diagonale, in qualche senso è arbitrario, no? E mi chiedevo se la definizione del processo che voi avete dato, questa scelta, cioè è conveniente perché ha la stessa probabilità stazionaria, prodotto e per altre ragioni e quindi potete applicare tutto quello che è noto nella teoria classica delle catene di Markov per le visite a un solo punto. Esattamente. E questa è la questione. Sì, esattamente questa è la questione. Se io scegliessi le uscite della diagonale con un'altra legge, avrei un'altra misura stazionaria e potrei utilizzare il lemma di prima visita per questo nuovo processo tilde, a patto però di saper controllare com'è fatta la misura stazionaria per quest'altra catena. E siccome la misura stazionaria del processo prodotto è il prodotto delle misure stazionarie e queste sono già note perché ci abbiamo lavorato precedentemente, è conveniente lavorare in questo modo. Sì, però concettualmente in qualche senso sono una classe di processi tilde arbitrari che hanno tutti lo stesso tempo di meeting, però questo è il più conveniente da studiare. E l'idea di, come dire, appare in altri lavori questa idea di collassare la diagonale? Sì, sì, moralmente in tutti, ognuno lo dice a parole sue, ma in tutti i lavori anche quelli che ha presentato Luca sono tutti basati più o meno su quest'idea. Ovviamente, vabbè, anche altri lavori guardano un caso orientato, però c'è meno interesse, perlomeno nei lavori che ha presentato Luca, nel determinare chi sia il tempo di meeting, ovvero conoscere la costante quantomeno. I lavori che ha presentato Luca di Oliveira, Chen Choi e Cox, per esempio, sono più del tipo, supponiamo di conoscere un'approssimazione al primo ordine, diciamo, del tempo d'incontro di due passeggiate, allora bla bla. E quindi poi il problema che è più vicino, diciamo, alla comunità che si interessa di teoria delle reti, appunto, di capire qual è l'effetto della rete nel determinare le costanti, è quel, questo è, diciamo, il primo esempio in cui è stato fatto su un grafo non banale orientato, perlomeno. Ho capito. Grazie. Anche per questo ne ho parlato nella prima presentazione di quel collassamento, perché non è un'idea originale nostra, insomma, è abbastanza classico a tutti i risultati che dicevo. Ho capito. Qualcun altro ha osservazioni, curiosità, commenti? Ma forse posso fare un commento inclusivo io che mi piace di questo lavoro. Se pensiamo che di voler far viaggiare le informazioni e incontrarci molto di più nella rete sociale, il take home message, il morale è più diversità c'è nel modo di comunicare, interagire socialmente tra individui e ognuno in maniera diversa, meglio è, è più veloce la cosa. Quindi un messaggio veramente inclusivo da un punto di vista matematico. Ottimo. Giacomo, Aletti, hai alzato la mano? Sì, su questo pensavo che, sì, il secondo corollario è se ci sono però dei grossi influencer fai molto più veloce, perché fa sempre, cioè, la diversità vuol dire anche che ci sono pochi che determinano il pensiero di tutti, però in questo caso, se ho seguito molto bene il, cioè, perché vuol dire avere quel del più e di meno molto diversità di loro e quindi vuol dire aumentare la velocità di diffusione. attenzione. Sì, 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 sì. Corretto. Lo vediamo, lo vediamo, lo vediamo anche da come funziona oggi. Attenzione, sì, fino a un certo punto, insomma. Diciamo, l'orientamento dà una descrizione di questo, diciamo, influenza che alcuni possono rispetto e non ricevono, diciamo, non possono ricevere, diciamo, un input, ma lo possono dare. Bene, ci sono altre osservazioni, domande? Allora direi, Valentina, possiamo, diciamo, annunciare, richiamare il prossimo incontro? Allora, sarà ad aprile, non in primissimo lunedì di aprile, perché è il primo e del lunedì di Pasqua, ecco, quindi sarà lunedì otto, poi manderemo l'annuncio e sì, vuoi dirlo tu? Allora, il prossimo sarà appunto l'otto aprile, abbiamo, avremo, diciamo, un seminario di probabilità quantistica e i due speaker saranno Emanuella Sasso dell'Università di Genova e Federico Girotti del Politecnico di Milano, che parleranno, ci parleranno della probabilità quantistica. Va bene. Allora, anche diciamo che questi sono registrati, tutti i seminari, e li saranno pubblicati sul canale YouTube dell'UMI. Infatti già il primo, quello di Dario Trevisani e Sandra Fontini, lo è stato, lo sarà anche questo nei prossimi giorni, quindi... Vabbè, allora, ringraziamo ancora Luca e Matteo e poi tutte le persone che hanno partecipato e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie anche a voi. Grazie, arrivederci. Grazie ancora. Ciao, grazie a tutti. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Ciao.